da gli gomiti infiricci ancora io sento che tu sei molto più rigido qua devi sapere perchè non usciamo leve per quando sono stanco e non ce l'ho mai fiato leva è unica varianta per permettere di vincere perchè non ce l'ho mai bisogno serve un pochettino di forza, però se hai messo leva e se hai messo peso sopra, hai messo il peso sopra, basta che stringere, questo è come un meccanismo per asciugare questi vestimenti, quando metti, stringi sotto il muro, apri, metti, capisci? io non uso forza, guarda, un pochettino, guarda, uno, due, tac, sei caduto, ma forza un attimo, guarda, niente forza, guarda, guarda, io mi giro un pochettino, però forza non c'è, io ti prendo e poi cerco una variante molto più semplice e comoda per continuare a stringere questa leva senza usare forza, poi serve forza per un piccolo controllo di avversario, per essere sempre vicino, attaccato, per non permettere che lui scappa, invece tu devi sempre trovare come acqua, diciamo, ci sono due sassi, acqua non deve rimanere qua, diciamo, io ti controllo e vedo che posso, c'è anche 5 centimetri per inserire, io posso continuare a inserire i gomiti, capisci? così, io sento che, guarda, adesso sei stretto completamente, e poi cosa faccio? Mi avvicino con tutto il mio peso, diciamo, sì, 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 mi attacco, mi attacco, però non con forza, io devo stringere, tu devi stai come quelli, o così c'è ancora un pochettino, io vado fino alla fine per stringere completamente tutta biomeccanica, e poi basta, lì, adesso attaccati bene, guarda, aspetta, guarda. Attaccati bene, prima, metti braccia bene, vedi, vedi, op, 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 hai capito, tu devi attaccarti così, in tale modo che io non mi libero, op, oh, e non usa forza, hai capito, usa solo, hai capito, usa solo biomeccanica, ancora un pochettino, stringi braccia, però non usa forza, io voglio, e si va, vabbè, gomito attaccato, gomito qui, sì, io voglio, però, spazio non c'è, tu non usi forza, sei morbido, vedi, l'energia non perde, hai capito, vedi, op, a fianco metto braccia, stringimi, vedi, vedi, sono stretto, hai capito, e adesso non posso uscire neanche indietro, e pian piano mi, op, prima, stringi bene, senza forza, non si usa, bene, soffocato senza forza, vedi, devo, perché tutti pensano, fai go, fai vedi, invece biomeccanica è una arta per vincere senza usare forza, perché per vecchi, per un guerriero che in campo di guerra hai combattuto tre, quattro, cinque minuti, non ce l'hai mai, però ancora puoi agganciarsi, però, perché questa, questa energia, questi momenti, in realtà giù-jitsu è una morbida arta, un'arta morbidissima, vedi, io, diciamo, mi attacco bene qui, vedi, non ce l'ho mai bisogno di forza, guarda, forza non serve, biomeccanica, lui, tu hai schiacciato, quando lui era schiacciato l'ha fatto così con braccia, e poi tu sei andato giù, in realtà la vittoria era tua, quella che dovevi fare, quando hai preso, tutto era qua, qui tutto era bene, anche così, vedi, posso stringi un pochino lenta, e poi guarda, si rilassa, ti piego, e controllo così, in tal modo che si giri, e poi piego il tuo collo in tal modo che lui non si libera, e poi devi aspettare, e poi devi aspettare, quando lui si suffoca da solo, però tu ci vai forse, 200 stacchi fai, poteva rimanere tranquillo con 84 in braccia, anche in movimento, hai preso stretto, guarda, tu non solo sufochi, vedi, tu sufochi, giri, e poi anche, come stacchi testa, capisci? Ancora una volta facciamo questa cosa, giusto te, vedi, sopra, spiego, eh, piano, aspetta, non fai stretto, non compreso, si, si, senti prima, contatto di pie, di braccia, si, hai stretto bene, io già il gomito inserisci molto più profondo, basta, fatto, quello che puoi fare tranquillamente, senti, l'hai visto, non usi mai,